Tutti appunti le tre abruzzesi in campo nel mercoledì di campionato in serie D. Fa bottino piano il notaresco che sfrutta il rinvio della gara del Castelnuovo col Pineto e resta a meno 4 dal campo basso, violando il Gudini di Rieti per 3-2. Partenza lampo del rosso-blu trascinati da un Banegas scatenato a odore di una doppietta con il momentaneo 0-2 di Marchionni. L'argentino sta diventando uomo sempre più decisivo, sale a quota 10 reti e raggiunge Cardella della Cinzia Albalonga, Loviso proprio del Castelnuovo e Mercai del Vasto Gerardi in vetta alla classifica dei Bomber. È stato un bene perché comunque era una cosa che dovevamo migliorare da inizio le partenze, che di solito partivamo in svantaggio comunque da sbloccarle dopo, invece adesso le ultime partite stiamo cercando di migliorare questa cosa, di fare la partenza forte e oggi siamo riusciti, fin troppo perché già in dieci minuti eravamo 2-0 e dopo mancavano ancora quasi 85 minuti da giocare. Però dopo comunque al di là delle azioni che abbiamo avuto, penso che abbiamo fatto una buona partita a livello offensivo e anche difensivo perché abbiamo preso solo due gol su palline attive, altrimenti non ci sono mai stati pericolosi, diciamo, o almeno non avevo questa sensazione dal campo che potremmo prendere qua in un'altra maniera. Per i Rieti uno stop solo parzialmente lenito dalle marcature di Montesi e Orchi che non cambiano i destini dell'incontro. Il notaresco si lancia dunque all'inseguimento dei molisani per la vittoria del campionato e domenica la Savini ospita un agnonese distrutta proprio dal campo basso per 5-2. Ma questa innanzitutto è una vittoria importante perché venire qua contro una squadra che secondo me sta facendo un grande campionato e poi giocare su questo campo non è semplice. Venire con questa autorità a fare questo tipo di partita, anche con grossa qualità, nell'interno della partita anche saper soffrire perché questo è un campo dove ti iniziano a buttare le palle in area di rigore e siamo stati bravi. Pari e patta al castrum di Giulianova dove i padroni di casa vanno sotto con la vastese per effetto del gol realizzato dal solito Mamona ma riescono a racciuffare comunque la gara con il calcio di rigore realizzato da Paudice assegnato per fallo di Di Prisco su Antonelli. Giulianova che con Cesario potrebbe anche sorpassare ma l'attaccante giallorosso è fermato in posizione di offside. Cosa si porta a casa di buono bitetto dopo questa prestazione? La prestazione in generale, la prestazione perché non abbiamo lasciato nulla di intentato. Oggi volevamo cercare di vincerla. Diciamo che la prima parte potevamo far meglio poi nella seconda parte loro hanno fatto bene, ci hanno messo anche in difficoltà potevano andare forse anche dopo l'1-1 anche in vantaggio e quindi bisogna essere obiettivi. Oggi abbiamo fatto un passo indietro ma un passo indietro rispetto a tutte le altre prestazioni proprio sotto il profilo della fisicità ma non perché siamo calati fisicamente perché abbiamo risentito di queste due partite con la neve e quest'altra e quindi questo ha inciso nella seconda parte. Domenica si torna di nuovo in campo e il Pineto andrà al rinvio numero 7 perché il Focolaio all'interno del gruppo squadra Biancazzurro farà saltare il match con il Vasto Girardi. Impegno difficile per il Giulianova al Tubaldi contro la Re Canatese mentre la Vastese all'Aragona avrà un'altra laziale. Dopo i rieti di sabato scorso ora arriva il Fiuggi. Laziale è anche l'avversario del Castelnuovo che tra le mure amiche riceverà la vista dell'Apriglia.